Consiglio generale dei pensionati CISL di Bari, durante il quale sono state affrontate una serie di emergenze attuali e qualcuna che si protrae da troppo tempo. Sono intervenuti, oltre al segretario generale FNP CISL Bari Batta Enzo Lezzi, il segretario generale della CISL Bari Giuseppe Boccuzzi, il segretario regionale della FNP CISL Puglia Remo Barbi e Daniela Fumarola, reggente della FNP nazionale e segretaria organizzativa confederale. Un fiume in piena nella sua relazione è il segretario Lezzi che invita il Paese, la politica e il Governo a riflettere sul ruolo dei pensionati e delle pensionate. C'è la necessità di una ripresa forte del confronto con i livelli locali, quindi con i sindaci e con la direzione generale delle ASL su alcuni temi sensibili nelle corde dei pensionati, ma degli stessi cittadini, mi riferisco al tema della sanità tra tutti i temi e tra questi poi anche quello che riguarda tutta l'organizzazione dei servizi e delle politiche di welfare che servono appunto ad alleviare il disagio di quelle fasce più fragili della nostra popolazione, dei nostri pensionati. Bene, su questa cosa noi dobbiamo migliorare e contribuire a migliorare la qualità dei servizi che vengono resi ai cittadini, ma anche avere la capacità di spendere le risorse che abbiamo molto spesso. Molti delle nostre realtà territoriali non riescono a spendere tutte le risorse, eppure sono disponibili, penso, a tante risorse comunitarie con le quali si potrebbero organizzare servizi potenziali degli altri, per esempio sul versante dell'Adi, rispetto alla platea di persone potenzialmente che ne hanno bisogno, riesce ad alleviare il disagio di circa il 30% della platea. E poi è un delitto avere a disposizione le risorse e non poterle utilizzare per ampliare questi servizi. Penso al tema dell'Alzheimer, la nonosufficienza, la necessità di avere centri diurni, dove poter alleggerire il carico delle famiglie e quindi creare momenti non solo per andare incontro a queste esigenze, ma anche per migliorare proprio la condizione dell'anziano affetto da Alzheimer o affetto da nonosufficienza. E poi c'è il tema dei temi, quello della sanità e del riequilibrio dell'offerta, perché c'è un tema sul riequilibrio dell'offerta, rispetto ai quali i sindici sono completamente assenti in questo dibattito. Ci sono realtà dove alcuni cittadini, intere comunità, per avere accesso alle cure, debbano muoversi facendo 30-40 km dal proprio domicilio, perché l'offerta non è uniforme, specialmente mi riferisco all'offerta della medicina territoriale. E poi c'è il tema delle liste d'attesa. Sulle liste d'attesa credo che non ci sia più tempo per discuterne. Peraltro i dati sono sotto gli occhi di tutti, basta andare sul sito della regione per vedere quali sono i risultati, quali sono le specialità dove ci vogliono mesi e anni per avere una visita oculistica, una visita cardiologica, una mammografia. Bene, tutto questo negli ultimi sette anni non è stato fatto nulla per migliorare, è peggiorata la situazione, pur avendo impegnato risorse importanti, che non capiamo come sono state spese per fare che cosa. Allora, concludendo, noi su questa questione delle liste d'attesa, se sarà necessario, chiederemo anche un intervento del Ministero della Salute, perché verificati i dati agisca come previsto dalla legge, commissariando tutte le alza pugliesi. Un ruolo, quello dei pensionati, che è fondamentale per le famiglie italiane, perché contribuisce al welfare informale delle famiglie, come dimostra il fatto che molto spesso i pensionati sostengono figli e nipoti con il reddito che deriva dalle proprie pensioni. Le dichiarazioni di Daniela Fumarola, reggente della FNP nazionale. Questa FNP, questa nostra federazione dei pensionati, ha analizzato tutte le criticità che purtroppo i pensionati e le pensionate, ma non solo loro, anche i lavoratori e le famiglie, stanno vivendo a causa delle ripercussioni negative del Covid, poi della guerra, dell'inflazione, del caro Bollette. La prospettiva che hanno tracciato i pensionati di Bari è una prospettiva che guarda oltre, non si ferma ad una lagnanza, ma pensa invece di affrontare questa fase così drammatica con delle proposte. Sicuramente quelle che vengono fatte qui a livello territoriale, ai comuni, alla regione, ma è necessario anche un intervento nazionale. E qui entra in campo l'agenda sociale che come CISL abbiamo presentato, prima della campagna elettorale, i 12 punti che partono dalla necessità di rilanciare il lavoro attraverso gli investimenti e di dare quelle risposte alle criticità che Covid, guerra, caro Bollette, inflazioni hanno messo in evidenza. Noi al nuovo governo che si è appena insediato abbiamo chiesto di incontrarlo, ci aspettiamo una convocazione che possa intanto affrontare queste emergenze e poi appunto possa tracciare un percorso di prospettiva.